Il Consiglio regionale 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 che ha comportato un processo a porte chiuse e allo Stato degli Atti. La procura distrettuale di Catanzaro aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Torniamo invece adesso al maltempo. Scilla si rialza dopo la tempesta che l'ha colpita in pieno. Sono stati molto bravi, molto efficienti. Ieri era un macello, hanno pulito tutto, stanno pulendo. Sono ammirata dall'organizzazione, perfetta, bravissimi. Fango che sembrava di essere in un'alluvione tipo Sarno. Ero in apprezzione, sono arrivato ieri pomeriggio in treno e sono stato molto sorpreso quando sono venuto qui. Cioè il mondo si è mosso per aiutare la mia città e quindi non posso che essere contento nella disgrazia di quello che è successo. Ieri è stato il giorno di Matteo Salvini in Calabria e il suo tour, soprattutto nel Vibonese. ha parlato di emergenza migranti e di occupazione. E' stato il giorno di Matteo Salvini in Calabria. Dalla mezzia Vibo Valencia, passando per Vibo Marina, Briatico e Tropea, il numero uno del carroccio ha affrontato i temi caldi dell'agenda politica nazionale. Nelle ore in cui a Roma si registra la brusca frenata del governo sullo Ius Soli, Salvini non può che commentare positivamente il rinvio di una legge che per il leader della Lega è inutile. La cittadinanza è una cosa importante, che decidi da maturo a 18 anni, decidi se guidare la macchina, se andare a votare e se vuoi diventare cittadino italiano o vuoi rimanere cittadino marocchino, cinese, pakistano, nigeriano. Non è un biglietto regalo all'una parte. Vedremo anche le parole di Matteo Salvini sulla stampa tra pochissimo che troverete in edicola. È stato presentato nel frattempo ieri mattina alla cittadella regionale il nuovo bando per l'edilizia sociale. Nasce tenendo conto degli effettivi bisogni dei territori. Il bando regionale sull'edilizia sociale rivolto ai comuni calabresi è presentato alla cittadella regionale dall'assessore alle infrastrutture Roberto Musmanno. Noi ricordiamo che la popolazione in Calabria ha, come in tutte le regioni, delle caratteristiche ormai che pongono un problema e una sfida sotto il profilo sociale. Quindi è anche giusto che, soprattutto in un territorio come la Calabria, dove l'età media sta crescendo, dobbiamo preoccuparci delle strutture che garantiscono interventi di assistenza sociale. Il giornalista di Rai 1, di Gian Antonio, è stato in Calabria nei giorni scorsi. L'abbiamo incontrato. È stato assoverato nei giorni scorsi il giornalista, conduttore di Rai 1 e inviato di guerra, Paolo Di Gian Antonio. Una permanenza durata qualche giorno che ha permesso al noto volto televisivo di apprezzare ancora una volta i sapori e i luoghi di Calabria. Come la trova questa terra? Ho trovato un assoverato in salute, io ci vengo spesso, un assoverato in forma, con un'opportunità. Noi italiani, naturalmente i calabresi, che sono votati proprio a una missione turistica, abbiamo la possibilità di tradurre positivamente quello che di negativo sta accadendo nel Mediterraneo. E adesso gli eventi estivi, partiamo proprio da Soverato, dove grande successo ha riscosso. La Sagra del Tonno. Sono da sempre occasioni di incontro, momenti di condivisione e convivialità che ruotano attorno a piatti tradizionali e quindi prodotti enogastronomici locali. Ed è stato così anche per la Sagra del Tonno Callipo, organizzata dalla Proloco di Soverato, presieduta da Pietro Melia, sul lungomare Europa, all'interno dell'Excomac, un'area di circa 1500 metri quadrati, che da ex fabbrica nel cuore della città, dallo scorso anno è diventata un contenitore di eventi e manifestazioni. Terzo appuntamento al Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo di Montalto Fugo, tutto esaurito per il recital a punti di viaggio di Ilna Sastri. Sul palcoscenico di Ilna Sastri è giunta una Ilna Sastri in forma smagliante, coinvolgente il suo spettacolo a punti di viaggio, un racconto intimo e profondo della vita dell'artista. Pezzi di teatro, balli, canzoni del repertorio napoletano hanno illuminato la scena, riempita dalla naturale scenografia della maestosa cattedrale e dalla musica della piccola orchestra di accompagnamento. Ilna Sastri ha raccontato se stessa, instaurando con il pubblico nutrito di Montalto Fugo, una sintonia immediata. Questi gli eventi già andati in scena e invece tra quelli che dovranno andare in scena tra il 21 e il 29 luglio, articolato in quattro serate, il Calabria Blues Passion Festival musicale in memoria di Marco Fiume. Il Calabria Blues Passion XV Memorial Marco Fiume si articolerà in quattro serate per un totale di otto concerti di grande qualità. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa coordinata dal giornalista Marco Le Fosse ed ospitata nell'auditorium Alessandro Amarelli. Maria Giulia Sorventino, presidente dell'associazione musicale Marco Fiume, ha illustrato il programma. Sono intervenuti Giuseppe Graziano, in rappresentanza del Consiglio regionale che patrocina l'evento, e Rossella Siviani di Enel, main sponsor della manifestazione. Tutti i concerti sono gratuiti. Adesso panoramica su ciò che troverete stamattina in Edicola, stampa nazionale e soprattutto stampa locale. Partiamo dai temi italiani e appunto con sguardo anche sul mondo. Prima pagina del Corriere della Sera. I fatti, in primo piano, intanto il record dei giovani esclusi occupazione in rapporto di Bruxelles in Italia, uno su cinque, è NIT il governo. Giù il cuneo fiscale, non studiano né lavorano. Primi in Europa, facoltà a sbagliate e a solitudine, non studiano, non lavorano, non seguono corsi di formazione, sono i giovani NIT, ossia Not Employment Education or Training. L'Italia vanta in Europa il non invidiabile primato nella classifica, sono il 19,9, uno su cinque. Nel nostro paese crescono anche le persone povere, sono l'11,9%. Intanto il governo nella prossima legge di bilancio taglierà il cuneo fiscale. Tra le altre notizie importanti che troverete stamattina in Edicola, sui vostri quotidiani preferiti, conferma in appello, Iara per Bossetti, resta l'ergastolo, ergastolo confermato per Massimo Bossetti. La sentenza di appello per il delitto di Iaria Gambirasio è arrivata nella notte dopo 15 ore di Camere di Consiglio. I giudici non hanno invece accolto la richiesta dei sei mesi di isolamento. Queste le notizie in primo piano sul Corriere della Sera. Andiamo anche sulla prima pagina di Repubblica per andare ad approfondire. Temi invece riportati in primo piano su questa testata. Intanto l'emergenza incendi e roghi alle porte di Roma, l'Italia dei piromani, scrive Repubblica stamattina, in fiamme la pineta di Castelfusano, un arresto, il fumo sulla capitale. Poi temi caldi della politica, avevamo sentito anche Matteo Salvini sul Ius Soli. Alta tensione appunto nel governo, il PD Alfano chiede modifiche per far saltare il provvedimento, MDP a lui. La Golden Share, rammarico di Mattarella, visti emigranti, l'Unione Europea frena l'Italia, l'Austria. Chiuderemo il Brennero. Queste le notizie principali che troverete invece su Repubblica. Andiamo per un attimo anche su Il Sole. 24 ore, pensioni, 66 mila domande per l'APE. Come sapete è appunto l'anticipo di pensione, ipotesi assegno di garanzia per i giovani, boccia, patto di equità generazionale, boom di richieste per l'anticipo missionistico sociale, 6 mila in più della capienza. Ed ora si rischia un parziale slittamento. E poi l'approfondimento sul tema che abbiamo trovato anche sul Corriere della Sera. L'Italia, peggiore d'Europa, record di 15-24 anni che non studiano e non cercano lavoro. Il 19,9% proprio nel nostro Paese. Ed è un numero terribile, guardando appunto alla crescita del nostro Paese. Questi i temi nazionali e internazionali in primo piano. Invece andiamo adesso ai fatti più importanti che ci riguardano da vicino. Prima pagina del Cazzetta del Sud. Infatti i calabresi in viaggio con i soldi dell'ASP. In primo piano quindi la bufera che si è abbattuta sull'ASP di Catanzaro. Due arresti e sette sospensioni dal servizio, sequestrati beni per 300 mila euro, come abbiamo raccontato anche nei nostri servizi. Dirigenti e funzionari dell'azienda sanitaria avrebbero sottratto fondi destinati all'assistenza agli anziani. E poi a centro pagina il delitto Caccia a Torino, procuratore ucciso Ergastolo a Schirripa, il panettiere di origine calabrese, nato a Gioio Saionica, Rocco Schirripa, 64 anni, è stato ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio del procuratore di Torino, Bruno Caccia, è condannato all'Ergastolo. La sentenza è stata emessa ieri pomeriggio dall'assistia di Milano. Il magistrato venne assassinato nel giugno dell'83 a Torino per ordine della Andrangheta, secondo appunto i giudici. E poi in taglio alto, ne abbiamo parlato con Consolato Minniti, Rimbor Sopoli, tutti a giudizio, tranne in Balzano. Il gruppo Adriana Trapani ha disposto il processo per 22 ex consiglieri regionali e porta borse con la Guardia di Finanza che ha indagato proprio i consiglieri regionali della decima legislatura calabrese. Tra le altre notizie dai territori, Catanzaro si guarda al calcio, la nuova avventura tra orgoglio e ambizione. Di fatto prima uscita ufficiale ieri della nuova società targata a Noto e poi a Santonofrio, l'abbiamo letto insieme, omicidio 30 anni a Francesco Fortuna. Questi temi in primo piano che troverete su Gazzetta del Sud. Ci spostiamo sul Quotidiano del Sud, oltre ovviamente ai temi già trattati, e quindi lo scandalo all'Asp di Catanzaro e poi rimborsopoli a Gioia Tauro. Parlando di Porto, lavoratori licenziati non si fidano, assemblea spontanea proprio, sit-in ieri mattina davanti all'autorità portuale. Poi, tra gli altri temi, in regione 60 milioni di euro per l'edilizia sociale e il bando rivolto ai comuni. Questi un po' i temi che troverete sul Quotidiano del Sud. Andiamo anche sulle altre testate, appunto Calabresi, la provincia, rimborsopoli, tutti rinviati a giudizio, l'abbiamo visto, con quegli scontrini di troppo. In fase avanzata il dibattimento per De Gaetano è fedele, ancora da discutere invece la posizione di Adamo e Talarico. Guardando invece la provincia Abruzia, relazione di Cantone, le camere sull'indagine in corso, la depurazione calabrese bocciata da Lanac. Questi i temi in primo piano invece che troverete sulla provincia di Cosenza, che guarda anche però a quel che è accaduto nel Vibonese con la visita di Matteo Salvini nel Vibonese appunto in provincia di Vibo Valencia, Salvini a Vibbo, l'Italia non può accogliere l'intera Africa. Il leader della Lega nel corso del suo mini-tour in Calabria ha parlato soprattutto di emergenza migranti e di occupazione. Castrovillari, il caso Bergamini, scopre ora un super testimone e parleremo anche di questo nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Chiudiamo con le notizie sportive, Gazzetta dello Sport, in primo piano i nuovi acquisti della Juventus, Maxi scommesse, gioca un po' con le parole la Gazzetta dello Sport. Stamattina Juve presi gli eredi di Dani Alves e Buffon, si tratta di Desciglio e Scesni, il terzino pagato 12 milioni, ritrova Allegri che l'aveva scoperto al Milan e adesso può rilanciarlo per il portiere 12 milioni più 3 di bonus all'Arsenal ex portiere della Roma Scesni appunto. Poi tra le altre notizie l'Inter c'è Keita accordo in vista con il Laziale sul piatto ci sono 20 milioni il senegalese ieri a Milano Marzial potrebbe arrivare in cambio di Perisic a parte l'offerta per Vidal si tratta anche Vesino e poi il Milan di Massimo Mirabelli direttore sportivo che molti di voi ricorderanno in seno al Cosenza il Milan quanti si Obama Young ora fa lo sconto e poi le altre notizie ovviamente che riguardano soprattutto il calcio mercato questa è la notizia che troverete in edicola altri approfondimenti non ce ne sono e allora vi rimando al nostro appuntamento della informazione a partire dalle ore 14 grazie e buona giornata da Alessio Buon Passo